Oggi avvicinavamo a Karn più lo scontro si faceva intenso. Su quei tetti ogni pericolo era mortale. È scarico. Su quei tetti c'erano poche munizioni, eravamo di nuovo a secco. Però abbiamo trovato delle Boltok. Dovevamo cercare di non sprecare neppure un colpo. Dove sta andando? Non so, ma non mi piace. Non ammattatemi se non siete costretti. Munizioni finite. Staccandole finirei... Centri! Munizioni finite. Muori, battiterra! non so, ma non so! Pertiglia! Il suo luogo! E non vado da andare a dire per quanto riguarda... Non vado. Il tuo luogo è il suo luogo! Farai una cosa... ... replace! Farai molto più male a te che a me! Boke! Ehi G.O.G! Ma stanno cercando di aiutarci! È scarico. Ok, è più profondo, davvero? Io non lo so. Ho sentito che fanno pagare per le vattacchie. C'è Kino! Ehi G.O.G! Ehi G.O.G! Andemedi! Ehi G.O.G! Ehi G.O.G! Ehi G.O.G! Ehi G.O.G! Ecco come vi piace combattere E gli altri vermi con rampini Meglio a te che a me Muori, battite Sono mie Ci siamo, avanti Kilo Il museo è vicino No, rocci No, rocci